Catturato Graziano Mesina, era a casa di una coppia ad esulo, Graziano Mesina, detto Grazianendo, è stato arrestato nelle scorse ore della notte dopo una latitanza che durava da luglio 2020, l'uomo è stato al centro del banditismo sardo e dovrà scontare una pena di 30 anni per traffico di droga, Mesina è stato trovato in un'abitazione ad esulo, in provincia di Nuoro, laddove stava trascorrendo la latitanza, il 79enne era solito dormire vestito, ed è proprio così che i carabinieri lo hanno trovato una nel momento dell'irruzione, avvenuta alle 2.30 di notte, Mesina è stato colto di sorpresa dall'ottima azione dei militari, i quali hanno anche arrestato per favoreggiamento la coppia che ha cercato di nasconderlo, si trattava di uno dei criminali più pericolosi tra tutti coloro che sono riusciti a sfuggire alle forze del ordine, quindi metterlo dietro le sbarre è stato un grosso colpo per l'intero paese, in particolare per tutti coloro che hanno subito soprusi e maltrattamenti da parte sua, approfondimento nell'articolo su vivicentro.it. Termina così il nostro momento di informazione, chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it nelle nostre edizioni regionali e sportive.